Federico Burchio, terzo classificato a questo trofeo Enzo Migliore, cosa ci vuoi raccontare della tua gara? Abbiamo giocato un po' di squadra, io stavo bene, purtroppo è andata via la fuga, hanno preso un bel vantaggio di 3-4 minuti. Poi sulla salita ho provato e ho portato dietro tutto il gruppo, ha vinto un mio compagno di squadra quindi sono contento lo stesso, però oggi la potevo vincere tranquillamente, è andata così. Sono contento per la vittoria di squadra anche se è andata così. Io stavo molto bene, ho sbagliato a non entrare nella fuga perché se entravo vincevo, è andata così. Sono contento anche per il provinciale, sto migliorando piano piano ogni settimana e spero di essere meglio nelle gare che contano. Sì perché ovviamente oggi essendo il primo classificato della provincia di Torino hai anche conquistato il titolo provinciale quindi è una piccola consolazione in una giornata come questa. Sì sì, sono contento anche se preferisco vincere il regionale che è un po' più importante. Adesso i tuoi obiettivi per il futuro, le prossime gare a cui parteciperai? Ma adesso non lo so ancora precisamente. Penso domenica prossima correrò a Brescia, poi punterò a regionale e poi vedo di fare bene anche gli italiani perché l'anno scorso ho fatto settimo, quest'anno proverò a puntare più in alto.